Di me comprendo bene questo lottare degli studenti per avere il diritto all'assemblea dentro la scuola e attuala nelle sedi che non sono certamente per loro natura luoghi di libertà. Io so questo, che chi pretende la libertà poi non sa cosa farsene. Pasolini venne espulso dal PC nel 49 di mercoledì. Perlomeno non solo per questo. La morale come vecchia religione, sempre pronta a condannare la tua scelta esistenziale. Per il domani. E ti colpisce come droga dello Stato, leggezioni a buon mercato. Compro oro e svendo tutto il mio decoro. Prima si uccide e poi rimpiange Aldo Moro. Ma la ragione cos'è? È amore per la vita e le persone. È questo il senso anche se un senso non c'è. È un fiore che ricorderà il tuo nome. È la semplice passione. La parte migliore. La parte migliore. Di te. Ha governato per trent'anni l'ADC, ma tutto passa in fretta, dalla notte al dì. O perlomeno non solo per voi. Davvero il tempo forse cambia le persone, muta le emozioni e ha il modo di pensare. Per il domani. Sembra tutto eticamente rovesciato, quando sputi sul tuo passato. Ma la ragione cos'è? E' amore per la ragione cos'è? E' amore per la vita e le persone. E' questo il senso anche se un senso non c'è. E' un fiore che ricorderà il tuo nome. E' la semplice passione. La parte migliore. La parte migliore. Per il domani. La fobia per la miseria e l'insuccesso. La paura di perdere la presenza.